aiuto brucio aia che capata ho tirato aiuto ehi ma che cazzo succede mi son spento così a caso ma scus mister auto ha trovato una cassa segreta oh my god oh my god andiamo a vedere cosa ha trovato quel buon tempone ah ecco non ti vedevo cosa c'è dentro levati che non vedo lurido oh cazzo sette pezzi di dinamite non sono tanti però possiamo farci qualcosa a questo punto decidiamo di dividerci la dinamite e pensiamo a come poterle moltiplicare siccome ci vuole un portale la cosa è impossibile quindi decidiamo di usarla per demolire la chiesa del villaggio però il fatto di averne trovata abbastanza in una cesta nascosta ci fa pensare che sia stata data la creative mode un po alla cazzo di cane e quindi terremo gli occhi aperti per scovarne altre 1 2 3 capobastone viene da te sono peggio di zio freddi ecco la chiesa tra poco la faremo brillare di luce propria adesso arriva la bombazza e facciamo un brodo clericale da paura trovare la tnt è sempre un godimento estremo mister auto ti conviene levarti di mezzo se non vuoi finire male ma che cazzo stai facendo il pavimento ma ti sembra uno dell'edilizia qua dobbiamo distruggere tutto ultimo degli ultimi ehm dovresti tipo uscire o robe così grazie mille per la tua collaborazione ed ora prepariamoci alla distruzione della chiesa 1 2 3 scoppia gio dai scoppia e guarda che grasciaro guarda che buco mister auto è colpa tua guarda che hai fatto a questo punto ci rimangono solo due dinamiti il che è un po inutile vista la mole del server allora salgo sui tetti e mi metto a raccogliere un po di mattoni per tentare un bel flood però proprio in quel momento mi contatta mister auto mi dice che ha trovato un covo segreto e di raggiungerlo subito non sapendo dove fosse cerchiamo di orientarci come due cani ubriachi sniff sniff sento puzza di piscio mister auto deve essere vicino sniff sniff ma dove diavolo sei te sei ammogliato sei diventato un avvocato de primordine aspetta capo salgo in cima spero di vederti ok però muoviti potrebbe entrare qualcuno da un momento all'altro capo mi vedi dove sei e chi te chi ti ho visto aspettami lì che ti raggiungo subito così mi fai vedere quella merda di stanza che hai trovato ok ci vediamo di sotto ok vediamo di non sbriciolarci le ginocchia sono curioso di vedere cosa ha trovato quel volpone allora dove sarebbe questa stanza segreta è qui sotto seguimi sì ma non è che dopo mi violenti appena scendo non so mica compagna a te sai hai un pisellone d'oro zitto e scava bestia immonda ragazzi abbiamo trovato questa stanza segreta perchè mister auto ci è caduto dentro ci sono due porte di metallo a protezione ma tra poco scopriremo cosa nascondono vediamo vediamo cosa ci sarà mai qui den aia cazzo fai mi colpisci squallido schifoso non sai suonare scusa mi è scappato il dito anche a me sta per scappare un dito e finirà dritto dritto nel tucull vediamo cosa c'è dentro oh cazzo ma questa è la fiera del capodanno a pechino madonna guarda che roba ci sono interi stock da 64 di dinamite qua addirittura preso dall'emozione ho premuto esc non ci potevo nemmeno credere mamma mia anzi mamma tua e con tutta questa dinamite cosa ci possiamo mai fare vai mister auto prendi la metà e iniziamo a distruggere inizia la festa ehi ma cazzo succede o no c'è un lag spaventoso oh oh aspetta a scoppiare aia cazzo che male l'esplosione mi ha quasi ucciso eccolo qui uno dei numerosi buchi che stiamo per fare io e mister auto ci siamo divisi e stiamo creando il panico il motivo di tutta questa tnt trovata in una stanza segreta è semplice in questo server sarà stata data la creative mod un po a tutti e quindi qualche genio ha pensato bene di farsi la propria scorta personale per i tempi cuti grave errore amico grave errore adesso vedendo che ho fatto una croce rovesciata di tnt te dirai e sei satanico sei un pezzo de diavolo sci sci secondo te sci ma io non ti do questa soddisfazione questo server sarà raso al suolo sto godendo come un porco mai trovata così tanta tnt in un server non so nemmeno dove piazzarla da quante strutture ci sono lo sbriciolamento di mura più totale cazzo figa questa era vicina a momenti mi arrecava danno fisico dopo aver fatto delle prove all'esterno ora testeremo la tnt direttamente in città sapete il lag anche se rompe i coglioni da un certo punto di vista è emozionante perché non si sa mai quando esploderà e alcuni cubi potrebbero esploderti in faccia insomma aggiunge quel pizzico di casualità infernale che rende il tutto più emozionante ok la strada deve essere chiusa per lavori sarà meglio proseguire come vedete stiamo piazzando piccoli gruppi di cariche alla volta per evitare che crashi il server siccome già lagga di suo se facciamo esplodere tutte le tnt insieme è la fine 1 2 3 scoppia giù sarà meglio allontanarsi un po non voglio rischiare di morire già ho poca energia ma sgus sussistono problemi strutturali in codesto luogo chi è quel mona che ha fatto le strade in questo paese pezzi di fogna sentite queste esplosioni è sicuramente quel merdone di mister auto che ne sta combinando delle belle ehi mister auto cazzo combini lassù in cima sto giocando con i mortaretti mi sto divertendo un sacco stai attento a non farti saltare in aria come uno stronzo sono petardi sicuri me li ha venduti un cinese dentro una lavanderia ah beh allora tutto ok pensavo li avessi comprati in negozio fossi scemo ottimo io vado a distruggere un po di qua tu continua pure la tua opera ehi capo aspetta perché non mi filmi mentre faccio saltare le mura si ma fai una cosa veloce che c'è ancora tanto da spaccare ed il tempo stringe aspetta un attimo devo sistemare gli ultimi panetti di tnt e ci siamo allora ci sei ti stai facendo le pugnette sulla dinamite ci sono ci sono preparati allo scoppio dai e giò vai scoppia insomma a furia di fare buchi su buchi su buchi ecco il risultato vi giuro che siamo stati almeno 15 o 20 minuti a far detonare dinamite a tutta birra si è fatta notte abbiamo ancora delle dinamite in tasca e stiamo perlustrando i dintorni ho voluto inquadrare questa pozza di lava per ricordarvi che il griefing non consiste solo nel versare la lava sulle case ma ci sono tantissimi modi più originali per dar fastidio dovete usare l'ingegno per scoprirne sempre di nuovi continuando sempre dritto con grande stupore scopriamo che la città dentro le mura non era l'unico insediamento nerd sul server ma ce ne sono tanti altri le costruzioni costruite intorno a questa montagna sono solo un piccolo esempio stanchi ma non del tutto finiti assaltiamo anche questo villaggio a suon di cannonate aia ma che cazzo succede? mister auto ma cosa ti dice il cervello? a momenti saltavo per aria arrivati in cima decidiamo di tentare l'esplosione potente anche a rischio di far crashare il server allora ci mettiamo a posizionare le ultime dinamite rimaste e formiamo una bella striscia esplosiva una volta finita ecco il risultato mister auto si è offerto volontario per attivare la miccia pregheremo per la sua anima più tardi bella e... purtroppo c'era rimasta poca tnt a causa delle devastazioni apportate alla città prendo in mano la bibbia altrimenti volo di sotto oh signore unisci loro perché sono dei nerve fanno gli atti impuri fanno le rubacce distruggi le loro case che sono fonte di tante ore di puro scavaggio sotterraneo insegna la retta via e bla 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 a questo punto voi direte avete spazzato via tutto e invece no proprio quando pensavamo di aver spaccato tutto dietro questa montagna ci ritroviamo niente e poco di meno che una nuova chiesa un nuovo villaggio un nuovo castello e tante altre boiate qua sono caduto sulla tastiera con la bocca aperta dallo stupore siccome sia io che mister auto siamo stravolti dalla fatica decidiamo di chiudere qui il video però prima mister auto propone di fare una foto ehi facciamo una foto? è chiaro dopo tutta la fatica fatta oggi mi ci vuole proprio un momento di relax si abbiamo proprio dato il massimo non c'è chi dire siamo stati esplosivi ok dai fammi stare a sinistra dell'obiettivo no a sinistra ci sono io che buon tempone ci ero quasi cascato adesso però levati dal cazzo ti ho detto che a sinistra ci sono io non fare figure di merda che ci guardano da casa levati guarda mancano pochi secondi allo scatto rimani fermo questa me la paghi è venuta proprio una bella foto e tu sei a destra lol sai che ti dico? ma si in fondo hai ragione che differenza fa stare a sinistra o destra l'importante è stare con gli amici veri guarda anto laggiù una scimmia a tre teste dove? non vedo nulla aiuto sono morto ma anche dall'oltre tomba vi saluto a presto merdoni